La parola mito, mitos inizialmente vuol dire racconto, ma vuol dire perfino come stanno le cose. Quindi l'uomo mitico non vive il mito come favola, lo vive come la situazione reale in cui egli crede, ma proprio perché è il mito qualcosa di voluto dall'uomo, io voglio che il mondo abbia questo senso e quindi produce il senso del mondo, il significato del mondo, il significato della protezione divina e in questa produzione è poetico, si ricorda che la parola poesia viene appunto da poiesis, che vuol dire produzione, proprio perché il mito è questa produzione, invenzione, poesia, volontà che le cose stiano in un certo modo, dicevo prima è inevitabile che a un certo momento l'uomo non sia contenti più di questo atteggiamento che in qualche modo è l'atteggiamento di chi non guardando la realtà sogna la realtà, ma sognare la realtà significa anche sognare il rimedio contro la morte, sognare il rimedio contro il dolore e quindi ecco che a un certo momento l'uomo, e qui possiamo dire il popolo greco, vuole uscire dal sogno, vuole cioè che il rimedio contro la morte e il dolore non sia appunto il contenuto di un sogno, ma sia qualche cosa che non possa essere smentito, che non lo si possa negare, che abbia cioè una verità incontrovertibile. Questa volontà di uscire dal sogno, questa volontà è la filosofia, questa volontà di guardare la verità delle cose, questa volontà di guardare la verità delle cose perché il rimedio contro la morte e il dolore sia un vero rimedio, questa volontà è appunto ciò che noi diciamo filosofia.